Ciao, ecco qui il video delle anteprime, dei produttini che ho preso, ve li volevo far vedere. Allora, ho preso in anteprima questa crema qui, che è per le mani, ha i sali minerali. Praticamente è idratante, ad assorbimento rapido, con minerali marini. Ultraleggera e assorbì in pochi secondi. E' questa qui. Poi, un altro prodotto che ho preso è questa crema per i piedi. E' una lozione rinfrescante al tè verde alla menta. E praticamente dopo la doccia va applicata con i piedi asciutti. E' molto profumata e deve essere sicuramente buona. Poi, questa non è un anteprima, l'avete già visto, però ve la faccio vedere. Ed è questo, l'eyeliner Always On Point. L'avevo già in verde, il teal. E questa volta l'ho preso in Midnight Navi. Questo bellissimo blu. E nulla, questa è sempre autotemperante, sempre fantastica. Volevo solo far vedere la tonalità, che è questa qui. Non la sto ad aprire, perché tanto la punta è di quelle normali. Poi, un altro nuovo acquisto, insomma, in anteprima è questo qui, l'ombrettino della Cosmic. Ed è il Jaded Moon. Nella tonalità del verde, è un misto. C'è tonalità del marrone. Ora, magari vi faccio vedere, appoggio il telefono. Se ci riesco. No, non ci riesco. Ok. Vediamo se... Riesco a farlo star su. Ok. Allora, ve lo apro. Apro anche questo. E i rossettini extra lasting, nuovissimi. Sono veramente fantastici. A lunga tenuta. Ecco qui. Allora. Questo è l'ombretto. Come potete vedere. Glitterato. E con tutte queste tonalità miste. Molto carino. Poi, in abbinato, preso e sempre in anteprima, la Glimmer Stick Cosmic. Nella tonalità Galactic Green. Questa verde. Questa è la punta. Nella, dovrebbe essere sempre nella stessa tonalità del verde. Poi, ecco qua. I rossetti nuovissimi dell'extra lasting. Questo qui è il mauve eyes. Questo bellissimo pesca è il pink piece. E questo rosa che reputo il migliore che ho scelto è il pretty in pink. È questo rosa stupendo. Poi, per finire, sempre in anteprima, ho preso l'ombretto extra lasting nella tonalità Blue Meridian. Che, purtroppo, mentre l'ho aperto, mia sorella me l'ha fatto cascare mezza boccetta per terra. Il fatto è che, essendo una polvere un po' cremosa, non sono riuscita nemmeno a raccoglierlo. Quindi, me ne è andata via mezza boccia. Comunque, vabbè. Sono arrabbiata come una bestia, ma la lasciamo perdere. E questo qui, sperando di non perdere dell'altro colore. Ecco, infatti. È questo qui. Questo azzurro. Infatti, sto già macchiata. Ed è questa boccettina qui, leggera, che se ti parte, perdi tutto il colore. Comunque, molto bello questo colore azzurro. Nulla, questi erano i miei acquistini in anteprima. Spero che vi piacciono. Il catalogo sei ricco di offerte e di novità. Presto metterò il video del catalogo. Ci vediamo presto. Ciao! Ciao!